A quasi un anno dall'ultimo episodio, Piazza San Marco di nuovo violata dalla criminalità organizzata. Risale il 17 marzo del 2017 il precedente più clamoroso, almeno in tempi recenti, di banditi che hanno preso di mira l'area più preziosa e delicata di Venezia. Le immagini della tentata rapina in una gioielleria all'ombra del campanile avevano fatto il giro del mondo, suscitando non poche polemiche per la facilità di attaccare una zona così sensibile dove i livelli di sicurezza dovrebbero essere al massimo. La pronta reazione del personale del negozio e di un turista che dall'esterno si era accorto di quanto stava avvenendo e aveva allertato le forze dell'ordine, impedì al comando dei professionisti di impadronirsi del bottino. Per coprirsi la fuga i banditi avevano azionato dei fumogeni scatenando il panico tra una nutrita folla di turisti presente in piazza. A distanza di dieci mesi quella vicenda non è ancora conclusa. La lunga indagine dei carabinieri ha progressivamente ristretto il cerchio intorno all'identità dei rapinatori. Si tratterebbe di un noto gruppo di pregiudicati originari dell'Europa dell'est. Alcune impronte digitali lasciate da uno di loro sul luogo del delitto seppur parziali potrebbero costituire l'indizio principale per risalire all'identità dei predoni che secondo alcune indiscrezioni avrebbero nel frattempo lasciato il paese per sfuggire alla caccia dei militari.